È durata pochi minuti ma è sembrata una scena da guerriglia urbana. La maxirissa tra tifosi del Bologna e del Norimberg al termine dell'amichevole giocata a Bressanone in provincia di Bolzano è finita 1-0 per il Rosso Blu. Cittadini e turisti hanno immortalato i tafferugli con i cellulari e tutti i video rilanciati dai quotidiani locali saranno acquisiti dalla polizia per accertare le responsabilità. Stando alle prime ricostruzioni, riportate dal quotidiano l'Alto Adige, a passare all'azione per primi sarebbero stati tifosi tedeschi che invece che dirigersi al Pullman avrebbero reagito agli sfottò di un gruppo di Rosso Blu fermo in un bar nei pressi della stazione. Ad avere la peggio è stato un tifoso del Bologna colpito alla testa da una bottiglia che gli ha causato una prognosi di una settimana. Sempre secondo quanto riportato dall'Alto Adige, i danni maggiori si sono registrati allo stesso bar e ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Grazie.